Allora, se non tipo di questa protesta cosa vi porta in piazza oggi di nuovo? Di nuovo? Oggi l'abbiamo chiamata il funerale delle attività commerciali, quindi la morte certa a cui sono destinate le nostre attività se andiamo avanti così. Anche perché siamo a fine anno, abbiamo fatto un po' di conti e ad esempio io sono fatturato 2020 e ho perso 152.000 euro a fronte di 15.000 euro che mi sono stati dati dallo Stato. Andare avanti così è difficile, quindi non a caso ci sarà una bara, una bara in cui metteremo gli attrezzi del mestiere per evidenziare la morte certa a cui sono purtroppo soggetti tante attività e solidarietà ai colleghi che purtroppo non ce l'hanno fatta a reggere la pressione e si sono uccisi. Cosa che chiedete? Chiediamo una revisione dalle zone perché Cremona, quantomeno che Cremona venga in base ai dati lasciando perdere i criteri prudenziali, chiediamo di lavorare in sicurezza, possiamo e vogliamo lavorare in sicurezza, sicurezza nostra e dei nostri clienti. Quindi chiediamo una revisione dalle zone, che ci sia una divisione dove c'è pericolo va bene ma dove si può lavorare che si lavori. Grazie. Grazie. Grazie.